Scappiamo dalla setta. Dove sta? Mi chiama che è profonda eh. Ok il buco di... Primo? Era una leggenda. I bambini si sfidavano. Conoscevano il potere. Quei boschi appartengono a qualcos'altro. La terra è maledetta. Forse è solo un racconto popolare. Oddio. Ma in quei boschi accade qualcosa. Si è cacciante quello che è vero. Qualcosa che riporta chi se n'è andato. Alexa spegni luci. Alexa spegni tutto. Bosco delle stelle. Sono vivo ancora. Sono vivo ragazzi. Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio corto ma questa volta è stato e secondo voi quel video della ragazza quella che entra in macchina e dopo un po' farà un incidente secondo è vero quello? o è fake? un pochettino più pesante rispetto al solito si abbiamo passato tutto il tempo a chiederci boh cosa era successo non lo so forse non l'abbiamo ancora neanche bene metabolizzato infatti la discussione era se vedrete mai questo video noi nell'evenienza abbiamo deciso di registrarlo lo stesso perché a caldo sentiamo ancora sulla nostra pelle insomma quello che è accaduto quindi abbiamo detto noi registriamolo poi decidiamo abbiamo tempo sì perché tanti di noi dubbi anch'io perché andremo del tempo per anche noi capire e metabolizzare no no veramente è politicamente non ti vado a sentire di nuovo mamma quant'è la strada di un senso? non lo so anche perché no davvero? non lo so anche perché no non lo so anche perché no Marco, Marco, zoom, zoom, la casa è giù, state giù, li prendo io, li prendo io. Sssh, sugar, e chai, frango, salva la bomba. Oddio, mamma mia, mamma mia, venga qua. Ragazzi, ragazzi, sono passanti, sono da qui giù, andiamocene. Sei sicuro? Guarda che erano due. Sì, erano due, cazzo, erano due. Due, sono due. Due? Non mi capisco, non mi sono andata. Via, Paola. Cosa? Andiamo, andiamo. Andiamo. Non accendete niente, non accendete niente. Via, via. Non accendete, non accendete. Fate attenzione. Cos'è? Non lo so, non lo so. Una setta. Una setta, raga, una setta, una setta. Sì, sì. Ora, aspettate, nemmeno una... Io c'ho una mezza luce. Ok. Via. Dov'è Marco? Marco, Marco, Marco. Marco, sbrigati. Sbrigati. Non lo so, sbrigati, ma... Raga, 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 spediti, spediti. Ma ha detto una titta. Spediti, 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 spediti. Via, 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 via. Via. Dov'è Simo? Ah, ok. Via, 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 via. Marco? Cosa c'è? Come non c'è Marco? Raga, fermi. Dov'è Marco? Non so. Marco, muoviti. Dov'è Marco? È partito pure l'audio. Che miseria. Ok. Che miseria, raga. Chi cavolo erano? Non lo so. Era una setta. Era una setta, raga. Era una setta. Una setta. Sì, sì, era una setta. Di che? Toppa, stai calma. Stai calma. Era una setta, lo so, lo so, lo so, lo so. Raga, quanto manca da qua la macchina? Poco. Corriamo, andiamo. Quanto manca? Lo so, ma... Ho perso... Tu l'hai visto? È una maschera? È una titta. Maschera. Maschera bianca, ma... Non so se no... Raga, ho perso senza l'orientamento. È una cosa come il pro. Eh, lo so, ho capito. Torniamocela qua, perché si ci sentono. C'è un numero dove siamo, raga. Aspetta, non sto bene. Eh, ma dovremmo smettere qua. Dovemmo smettere qua? Dovemmo smettere qua? Ragazzi, io sto pensando una cosa. Questa roba qua, dobbiamo dirla. Dobbiamo dirla, eh. Ci siamo, siamo fuori all'estero. Non so bene. Mi manca male. Aspetta, respira. Sì, fatela sedere, fatela sedere un secondo. Ma l'hai visto? Vai giù, vai giù, vai giù. Sì, sì, sì. Siediti un attimo. Siediti un attimo. Mettiti lì. Mettiti lì. Mettiti lì. Ma è una fessa. Aspetta, riposati un attimo lì, prendi un attimo. Ma non ti ho più visto. Dove eri finito? No, non so. Era dietro per capire dove erano nati. Mi sono preoccupato, Marco. Eh, non so, però devo vedere se ci sono io. Cosa siete? Sì. Paolo, ma dobbiamo chiamare qualcuno, eh? No. Io sei nei distintivi di qualcosa e non l'ho visto, eh? Tutti nervi. Sì, stai tranquillando. Sì, stai tranquillando. No, no, Toppo. Andiamo. Toppo, dai. Non ti preoccupare, andiamo. Togliamoci solo dal bosco. Andiamo. Vieni, stammi vicino. Attenzione, aspetta, fermi. C'è un'altra luce. O dammi una fetta. Aspetta, lascia, lascia, lascia. Aspetta. Guarda, che ne hai sciotta. È già in un shot. Hai visto un'altra luce? Eh, sì. Dobbiamo prendere coraggio e andare fino alla macchina. Va ben svelti, raga. Passiamo in mezzo all'erba, raga. Aspetta. Ritiriamo tutta l'attrezzatura perché così siamo pesanti. Ok. Svegliamo le camere e corriamo. Dai, raga. Andiamo. Bel video, bel video. Devo dire... Bello emozionante, devo dire. Bello. Alexa, accendi tutto, va. Alexa, accendi tutto. Era una zecca. Ora è una zecca. Era una zecca. Oh... Grazie a tutti.